questa macchina il formaggio fa con B.C.S. di Ariete fare il formaggio non è mai stato così semplice scegli il programma e ottieni uno stracchino morbido e cremoso una ricotta gustosa il tofu per vegani e intolleranti la mozzarella lo yogurt greco e tanto altro ancora B.C.S. di Ariete dal latte al formaggio a casa tua geniale no? grazie